Di Maio arrestato, la terribile notizia di poco fa, tutti sconvolti. Benvenuti al centro di notizie e gossip. Prima di immergervi nelle novità del giorno, un mi piace e la vostra iscrizione al canale sono per noi segni immensi di apprezzamento. Grazie di cuore. Ora, passiamo alla notizia che sta tenendo banco, un secondo processo per l'attore e conduttore televisivo, accusato di traffico di quella che viene comunemente chiamata e droga dello stupro. Le due avvocate difensori, Federica Bonomini e Rossella Gallo, hanno cercato di fare luce sulla situazione dopo che la notizia del presunto nuovo processo è balzata agli onori delle cronache. Il protagonista di questa storia è Ciro Di Maio, il quale non è estraneo ai tribunali. In passato, è stato sottoposto a giudizio per un altro episodio legato all'acquisto di GBL proveniente dall'Olanda, risalente all'agosto del 2021. Questo, va sottolineato, è avvenuto mesi dopo la prima accusa. La sentenza di condanna relativa a quel processo, pronunciata il 2 dicembre 2022, è stata poi annullata dalla Corte d'Appello di Milano. Tuttavia, è importante notare che al momento non esiste una sentenza definitiva per l'ex attore. Un nuovo processo è in corso, davanti a un diverso giudice presso il Tribunale di Milano, proprio per gli stessi reati. La vicenda è tutt'altro che conclusa, e restiamo in attesa di ulteriori sviluppi.